Nel secondo tempo, ripeto, senza certezze. Molti incognite e poche certezze per il superbonso 110%, dopo le ultime novità con le dichiarazioni del ministro Giorgetti e dopo il blocco la settimana scorsa della piattaforma NLX pensata per assorbire l'eccessione dei crediti incagliati. Le maggiori difficoltà potrebbero interessare i condomini. Forse si riesce a fare quei pochi che erano iniziati, che erano previsti, ma non certo tutto quello che si era programmato di fare nel 2023. Perché ovviamente tutti i contratti per cui sono stato depositato la CILAS non si riescono a fare ovviamente. Chi si era affidato ai general contractor, cioè a professionisti che si occupano dell'intera pratica edilizia, potrebbe riuscire a completare per tempo i lavori. Se tu pensavi di fare qualcosa con le banche, quello assolutamente no, nessuna banca ha riaperto il credito. Quindi i piccoli interventi magari che potevano essere finanziati con il discorso delle banche, quelli sono saltati. Ma alcuni general contractor, quando hanno cominciato a consentire le prime avvisalie, hanno addirittura rinunciato a quello che avevano già fatto. Avevo alcuni general che avevano già fatti i progetti, eccetera, ma hanno preferito accollarsi di oneri della progettazione piuttosto che rischiare. Dal 2024 la percentuale di detrazione scenderà al 70%, ma molti cantieri aperti non riusciranno a terminare entro il 2023 i lavori. Chi non finisce tutto il dicembre di quest'anno, l'anno prossimo andiamo al 70%, quindi la quota che rimane da chiudere, il 30% deve accollarsi il condominio. Famiglie dunque che potrebbero trovarsi in difficoltà a sborsare di tasca propria la differenza. Si auspica una proroga che avrà però probabilmente delle condizioni rigide da rispettare, come la richiesta di un avanzamento dei lavori almeno al 60%, escludendo dunque tutti quei condomini in forte ritardo con gli interventi. Grazie a tutti.